Giunta, dopo che sei stato ospite con noi hai guadagnato il numero 9 però Campos hai fatto un po' di tutto è stata una bella partita la tua hai mancato il gol più in fase di assist questo 0-0 insomma vi lascia un po' la mano in bocca oppure comunque tutto sommato è positivo? beh, chiaramente visti i risultati ci lascia la mano in bocca sì però dai guardiamo il positivo sai, io dico sempre che magari una squadra che spinge, spinge e viste le occasioni degli avversari che non ci sono proprio state magari sai, prendi un tiro e prendi gol e rischi di perdere la partita quindi va bene così va bene così, abbiamo allungato quindi guardiamo tutte le cose positive che abbiamo fatto peccato per non essere riusciti a sbloccare la partita però siamo contenti è mancato solo il gol oppure c'è qualche piccolo aggiustamento da fare visto che oggi mancava chiaramente in centro-avante avete dovuto giocare in maniera diversa più passaggio filtra sicuramente sì chiaramente abbiamo un po' modificato visto che l'assenza di Moscati però dai siamo riusciti a trovarci lì davanti abbiamo creato tantissimo infatti è un peccato proprio per questo perché sai, fuori casa è difficile creare così tante palle collo quindi l'unico rammarico è questo però siamo contenti soprattutto anche la fase difensiva che sappiamo che il mister ci tiene tanto abbiamo fatto secondo me molto molto bene quindi assolutamente guadagnate un punto sulla rivale diretta ma anche sulla terza adesso c'è un altro sconto diretto con lo Scandicci cambiato il modo di approcciare le partite siete sempre il solito grossito anche da capolista ma assolutamente assolutamente non è cambiato nulla noi dobbiamo pensare a noi come ti ho detto lunedì adesso che siamo su bisogna ancora di più guardare a noi fare il nostro percorso e vedi quando muovi la classifica l'importante è appunto quello muovere la classifica fare punti e cercare di fare il nostro percorso allora grazie buccalo buco grazie 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 grazie